Hello, here is Rangu. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry, with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Posizione nel maialino in cerca di te al piano superiore. Direttamente dal maialino in cerca di te al secondo piano. Dopo un piccolo spostamento scale lentamente su. Una svolta per trovare una chiara vista di fronte a voi. Il logo del loft è particolarmente evidente contro i gigli. Sul lato destro dell'ingresso ci sono due belle donne nel bar sorriso di benvenuto. Non può fare a meno di lasciare che la gente guardi più di due occhi. Loft. Fedele al suo nome. Un loft snello sopra un meraviglioso decorato in un ristorante con personalità e carattere. Anche se la posizione non è grande. Ma anche in grado di ospitare 4 o 5 tavoli. Ma anche il lusso di impostare una scatola. Posti a sedere casella può sedere 8 o meno 10 persone. Il semplice design della finestra galleggiante mostra il comfort dello spazio. Seduto nella finestra galleggiante ho sedie che chiacchierare e bere il tè sono molto buone. Se c'è tempo qui posso stare tutto il giorno senza stancarmi. Guardando il vaso di fiori. Lasciare che i pensieri galleggino. È anche un buon posto. Un nuovo prodotto non ha ancora chiamato la bella bevanda. Gusto molto leggero. Alcuni speciali. A causa di alcune persone che amano sparare buttato giù. Anche se la bella lettera in. Ma nell'impatto del tempo ha perso la delizia di questa bevanda. Zuppa di funghi. Ancora un nuovo prodotto. Sono stato fortunato a provarlo. Il sapore dei funghi è più forte di quello che si può ottenere in altri ristoranti. E il gusto non è troppo salato così si può ancora sentire la dolcezza dei funghi. Con il tosta all'aglio. Il pane fragrante e morbido. Con il leggero aroma di burro e il giusto calore. Era così armonioso con la zuppa di funghi. Pasta al salmone. I grandi pezzi di salmone sono sempre stati i miei preferiti. E la ricca salsa italiana si sofferma in bocca con la delizia. Bistecca australiana alimentata a cereali. Finemente impiattata e condita con mini carote. Purè di patate e fagiolini. Poi un grande pezzo di bistecca è stato tagliato a strisce in attesa di essere assaggiato. Questa bistecca era così tenera che sarebbe scoppiata quando la si mordeva. La tenerezza era indicativa della qualità della bistecca. L'unico piccolo difetto erano i fagiolini. Che avevano sempre un sapore un po' strano. E il purè di patate. Che non era abbastanza spesso. Ma nel complesso il piatto principale era altamente raccomandato e i contorni potevano essere ignorati. Pan free di Eastern Star Garupa. La pelle è croccante. La carne è tenera. E la sensazione di entrata è ancora un po' tenera. Non mi piace particolarmente. Ma c'è sempre la sensazione di non poterlo dire. La presentazione segue quella della bistecca. Questo più amo invece le piccole carote. Un ristorante così piccolo ed elegante non solo ha il pranzo e la cena. Ma anche il tè del pomeriggio. Si dice che lo chef sia un tre stelle Michelin. E i piatti prodotti hanno un fascino unico. Non c'è da stupirsi che gli affari vadano così bene. Fondamentalmente le persone che vengono qui prenotano prima un posto. Non importa il fine settimana o il giorno della settimana. La popolarità è la stessa. Indirizzo. 2F Piglet looking for tea Wakiao Sea View City Seeming District Xiamen Fujian If you are interested in our videos, remember to follow us. Ron Good more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you. And we'll be back in the video. And we'll be back in the video. Grazie a tutti.